E' pronta a ingrandirsi e a rifarsi il look. L'Accademia delle Scienze di Torino entro la fine del 2016 avrà un nuovo spazio espositivo di 700 metri quadrati, cantieri al via il 22 gennaio. A finanziare i lavori la Compagnia di San Paolo con un investimento di oltre 9 milioni di euro. Il palazzo è il secentesco collegio dei nobili, per la maggior parte occupato dal museo egizio. Nell'ala che si affaccia su via Maria Vittoria ha sede l'Accademia che è stata fondata nel 1783 e che tra i suoi soci ha contato personaggi come Darwin e Lagrange. Il cantiere interessa l'ex biglietteria dell'Egizio e i locali dell'ex tipografia Marchisio, un gioiello architettonico, oggi chiuso, in cui sono ancora accatastati i mobili antichi, che entro novembre rinascerà nuova vita. L'Accademia delle Scienze ha moltissime anime. Ci occupiamo di scienza, arte, storia e letteratura attraverso convegni, conferenze e pubblicazioni, ha spiegato la direttrice dell'Accademia Chiara Mancinelli. Da qualche anno abbiamo anche iniziato una sezione espositiva, quindi esponiamo le nostre preziose raccolte. La Biblioteca dell'Accademia è una biblioteca che conta più di 300.000 volumi e quindi su vari argomenti noi riusciamo a costruire delle esposizioni temporanee estremamente interessanti. L'ultima esposizione in ordine di tempo è quella dedicata ad Albert Einstein. Tra le curiosità, il verbale della riunione dei soci dell'Accademia Torinese, chiamata a decidere sull'ingresso di Einstein nell'istituzione. Quando si trattò di votare, il genio della fisica guadagnò solo un voto a suo favore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.